Se ora non stai facendo niente di importante, perché non vai di là in soggiorno a prendermi un bel sigaro? E c'è qualcos'altro che possa fare per te, Ezio, Lewis? È molto anziano, potrebbe essere il suo ultimo Natale. Se continua così, sarà il suo ultimo Natale. Chi l'ha staccato? I ragazzi, forse. Tesoro? Lo dicevo che c'erano troppe spine attaccate a quella presa. Oddio! Che cosa è successo? Niente, Ezio. Torniamo a tavola a finire il dessert. Andiamo. Se è vero che i gatti hanno sette vite, lui le ha consumate tutte. Ha, 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 ha! Woo! Ha, 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 ha! Grazie a tutti.